La complessità del tema riguardante le liste d'attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie è stata affrontata in misura e con strumenti diversi a seconda delle varie realtà regionali. Un tentativo sostanzialmente unitario a livello nazionale è rappresentato dal Piano Nazionale per la gestione delle liste d'attesa e recepito dalla Conferenza Stato-Regioni. L'ultimo aggiornamento, come recita il comunicato dell'Associazione Noi per la Salute, Tina Anselmi, presenta sicuramente delle novità in termini di trasparenza e di garanzie per i cittadini. Nei confronti delle strutture, ad esempio, che non rispetteranno i tempi di attesa individuati dalla Regione, si potrà attuare il blocco dell'attività libero professionale. Inoltre, se per una prestazione specialistica verrà superato il tempo massimo di attesa previsto per legge, il paziente residente potrà recarsi, secondo una specifica procedura, in una struttura privata convenzionata senza costi aggiuntivi. Mentre con il CUP online i pazienti potranno consultare in tempo reale l'attesa relativa a visite e esami erogati in regime istituzionale o in libera professione, nonché prenotare e modificare gli appuntamenti presi. Nel caso di superamento dei tempi massimi per gli interventi chirurgici, la richiesta verrà formulata su un diverso formulario in corso di elaborazione. Ulteriori novità riguardano anche dirigenti con i direttori generali che potranno essere rimossi se non rispetteranno i tempi massimi di attesa stabiliti per legge. Gli strumenti sono estremamente interessanti dal punto di vista della possibilità offerta al cittadino, a garanzia di prestazioni che devono comunque essere erogate anche se la complessità dei meccanismi a volta rende questi diritti inesigibili. È quindi compito della nostra associazione informare e fornire gli strumenti idonei alla soluzione della tematica relativa alla lista di attesa, in modo tale che questo si configuri come un sostegno da un lato alle giuste richieste della cittadinanza e dall'altra una collaborazione e una possibile sinergia con l'interrogatore, il quale, consapevole delle difficoltà e delle eventuali sanzioni cui dovesse andare incontro per inadempimento, conclude la nota, possa scegliere anche con soluzioni innovative un approccio più fattivo e collaborativo con la cittadinanza.